Benvenuti nella nostra cucina. Oggi vi mostrerò come preparare la salsa mediterranea più famosa, garum. Ma prima un'annunzione. È finalmente disponibile per preordere il nostro libro sulla cucina romana, in inglese e italiano, con parti dedicati alle source e ingredienti e ovviamente alle ricette. Il libro sarà usato il 9 novembre, trovate i link ai libri nella descrizione qui sotto. Iniziamo con gli ingredienti, necessitiamo le maccherie, le sardine, le anchovie e il salto. Iniziamo prima le maccherie, lasciando le sardine e le anchovie. È importante usare i pezzi molto freschi e non li prenderanno. Le entrate sono fondamentali perché contengono gli enzimi essenziali al processo proteolytico che trasformeranno i pezzi salati in garum. Ci sono molte ricette di garum nelle storie storiche. Questa è parte della Geoponica, un libro di bizantino scritto in greco nel 10 secolo, che collega molti texti più antichi. Le ricette sono tutte abbastanza diverse, alcuni chiamano per tutti i pezzi, altri solo per i pezzi di pezzi. Ci sono alcuni con altri ingredienti, come vino, le spezie e le erbe. È importante comprendere che il garum è un termine generico che riferisce a molti diversi tipi di sauce di pezzi, più o meno agita. La salsa che stiamo facendo oggi è chiamata dall'autore liquamen, che significa che il pezzi è liquido, il stesso termine usato nel Recoquinaria. Se usate altri tipi di pezzi, o anche solo pezzi o pezzi, otterrete una salsa con un sapore completamente diverso da questa. Altrimentiamo le strade di sale e pezzi. Stiamo utilizzando circa 3,5 kg di pezzi e 1 kg di sale. Tentiamo di compagniare i pezzi e il sale così tanto possiamo, prezionando attenzione che tutti i pezzi sono ben salati. Il rischio di sale deve essere tra il 20% e il 25%. Se hai alcuni dubbi su se il pezzi è salato sufficiente, aggiungi più sale. Se aggiungi troppo sale, finisci con un garum salato, ma se non usate abbastanza sale, avrai un garum salato. Con questa tecnica finiremo con due parti separati. Il primo liquido, chiamato liquamen o semplicemente garum. Il secondo è il residuo solido, chiamato allec o allex. L'allec può essere usato per molte ricette diverse. In particolare è eccellente per i pezzi di pezzi. Il rischio di pezzi è stato un po' intensissimo che il garum. Un po' di mesi fa abbiamo preparato una ricetta con Alec dalla Recoquinaria. Trovate il link al video nella descrizione sotto. Vi lasciamo il pezzi restare per tre giorni. Dopo il primo giorno, un strato di liquido apparirà sul top del pezzi, mentre il pezzi sarà compattato sul basso del contenuto. A questo punto il garum deve riuscire esattamente come pezzi salati. Prendete attenzione in caso si riuscirà un'intensore e odore non piaciuta. Probabilmente qualcosa si sta a scoprire o non avevi usato pezzi freschi. Questo è una regola generale. Il garum riuscirà un po' come pezzi, ma non come pezzi freschi. In alcuni momenti può riuscire come olio di pezzi, e questo non è qualcosa di strano, ma assolutamente non come pezzi freschi. In fine, con questo metodo ottenereai una salsa che riuscirà intermedio tra i pezzi salati e il pezzi agito. Dopo tre giorni, iniziamo a mixare il garum tre o quattro volte al giorno. Le prime volte saranno le più difficili, perché il pezzi sarà ancora tutto e compattato sul basso del contenuto. Especialmente le prime volte, dobbiamo essere attenti di lasciare i pezzi sempre coperti con liquido dopo aver mixato. Se esiste di usare solo le pezzi, questo processo sarà più veloce, perché li dissolveranno più tardi, mentre i pezzi necessitano più tempo. Usate il tipo di pezzi preferite per fare garum. L'importante è usare un pezzi piccolo o, se più grande, lo tagliare in piccoli piccoli, altrimenti il processo sarà estremamente lungo. Taglio dopo giorno, il pezzi inizia a liquido, letteralmente liquido, questo è il significato del termine liquido, usato come sinonimo per garum. Il pezzi non è solo partita in piccoli piccoli perché lo stiamo mixando frequentemente. È dissolvendo grazie all'azione degli enzimi presenti nei pezzi di pezzi, la razza perché è essenziale non eliminare le pezzi. Questa ricetta non specifica quanto tempo la garum necessita ad agire prima di utilizzarla. Inoltre, un'altra ricetta del Gaponics suggerisce mantenendolo per due o tre mesi. Potete mantenendolo più, non c'è limitato, alcuni pezzi di pezzi di asia sono estremamente 12 mesi. Il più che lo tagliate, il meglio è diventato. Il sapore del pezzi diventa più complesso e pieno di sapidità, diventando simile al pezzi di pezzi. Dopo due mesi sempliciamo il garum separando la parte liquida da quella solida. Abbiamo ottenuto circa metà liquida e metà liquida. Se lo scelgiscono solo con anchovia, la parte liquida deve essere più e il processo tutto sarà un po' più rapido. qualcuno ha chiesto quali sono le differenze tra un pezzi di pezzi esterno e il garum. La risposta non è semplice. Come dicevamo, il garum non è solo un pezzi, ma un termine generico per molti pezzi di pezzi. Questo vino che abbiamo preparato è diverso dai pezzi di pezzi che troviamo nelle storie di pezzi esterni. Come sicuramente diverso è il garum, un pezzi di pezzi preparato con vino molto popolare nell'antica Roma, o un garum preparato solo con sangue e pezzi di tuna, il sovrappato Aymathion. Plinni, però, descrive molti variati di garum, tra cui uno colorato come mulsum, che era un vino preparato con garum e doni, un liquido colore. È chiaramente impossibile ottenere questo colore con la tecnica che abbiamo usato per questa ricetta, assolutamente, mentre è possibile con i metodi utilizzati per preparare le pezzi esterni, che la preparazione consiste semplicemente in mantenere tutti i pezzi colore con salto per un molto lungo tempo, da 6 a 12 mesi. Il garum che abbiamo preparato ha un sapore complesso e piacente, non eccessivamente salto. L'utilizzo per la seasonare tanto la carne e i pezzi. Nel prossimo video lo useremo per preparare alcune ricette. Se siete interessati in alimenti e sapori antichi, abbiate al nostro canale e considerate di supportare noi sul Patreon.